Dopo la notizia della possibile adesione del Comune al progetto di accoglienza dei migranti, il cosiddetto SPRAR, che abbiamo dato due giorni fa, c'è arrivata la richiesta di rettifica del Sindaco di Santa Giustina in Colle, Paolo Gallo. Nella delibera di giunta del 21 marzo, spiega il Sindaco, non si accenna nemmeno alla possibilità di adesione allo SPRAR, bensì si delibera l'adesione al protocollo di intesa per il lavoro volontario corredato da otto schede di attività, che verrà siglato con la Prefettura e la cooperativa che gestisce i 13 richiedenti protezione già presenti sul territorio. Queste persone, volontariamente in collaborazione con associazioni, hanno offerto la loro disponibilità per organizzare attività di pubblico interesse, utili cioè per la comunità. Peraltro i 13 migranti sono già integrati nel territorio, sottolinea il Sindaco, e già attivi nel volontariato, nello sport, e frequentano le scuole serali di Campo San Piero. Inoltre tengono perfettamente in ordine i tre appartamenti che occupano e sei di loro lavorano in varie aziende del territorio. Una disgrazia per chi pensava di raccattare voti sulla paura è la risposta del Sindaco Gallo, ricorrendo a Bufale per lanciare un inesistente allarme. Il Comune, che non ha potuto opporsi all'affitto degli appartamenti, frutto dell'accordo tra Prefettura e Cooperativa, ha comunque verificato la serietà della stessa cooperativa, favorendo la disponibilità all'integrazione nel tessuto sociale e garantendo così il miglior risultato possibile nell'interesse dei cittadini di Santa Giustina in Colle.